Benvenuti cari followers in questo nuovo video in cui vi informeremo sulle zone interessate da abbondanti nevicate in Italia domani sera, giovedì 9 novembre 2023. Ma prima di entrare nei dettagli, se siete fan dell'inverno e neve, premi il pulsante Mi piace per questo video. Secondo l'ultimo aggiornamento del centro europeo, è prevista l'entrata di una massa d'aria molto fredda nel nord Italia e che porterà con sé forti pioghe e forti nevicate sulle Alpi e sulle zone prealpine. Domani notte, giovedì, cadranno quindi abbondanti nevicate su tutte le zone di confine con Francia, Svizzera e Austria. Forti nevicate anche in Valle d'Aosta, estremo nord-est della Lombardia, Trento Alto Adige e il punto più settentrionale del Friuli Venezia Giulia. Questa neve continuerà da giovedì notte fino a venerdì notte, 10 novembre 2023. Qualsiasi altra notizia importante, proveremo ad aggiornarvi più tardi.